Ciao YouTube da GBGNR6 e questo è un piccolo video di aggiornamento che faccio perché mi sono reso conto che molti iscritti qua o semplicemente non iscritti ma ho visto molti commenti che ci chiedono se siamo ancora vivi, se continuiamo a fare video Sì, continuo a fare video, ho ripreso da un bel po', sul canale nuovo però, c'è il canale nuovo di CDGames che molti sembrano ignorare Ebbene sì, c'è il nuovo canale di CDGames, lo lascio qua nella scheda in alto a destra e anche in descrizione qui in basso E fondamentalmente ho ripreso da un bel po' di tempo, sto portando delle blind run, in questo momento ho disponuto delle RPG e di Celeste Ho portato quella di Iris, ho fatto una serie secondo me molto molto carina su Morrowind, una serie più comical con tagli veloci E stanno andando avanti, sono tre di video stand alone, dei piccoli progetti che sto portando ancora avanti Quindi io vi ricordo che sono vivo e c'è appunto il canale dove carico cose da vivo, quindi a posto Passate se vi va, se vi piacciono i contenuti iscrivetevi Vi ricordo anche che ho un Patreon, lascio qua in un'altra scheda in alto a destra e in descrizione Dove potrete fondamentalmente ottenere vari vantaggi come i video in anteprima quando appena sono montati e caricati Prima che vengono pubblicati, in molti periodi si tratta anche di mesi prima che vengono pubblicati Canali Telegram esclusivi, c'è un video sul nuovo canale dove parlo di tutto questo più in dettaglio Vi ricordo che esiste, visto che qua ho molti più iscritti, quindi non si sa mai che aggiunga qualcuno che con l'altro canale non riesce a raggiungere E voi mi direte, perché non fai video su questo? Per una questione di pulizia Questo è un più di roba che non ha più senso tenere Molti iscritti hanno effettivamente gusti diversi perché questi erano fondamentalmente video di guide, non parlate la maggior parte Quindi è stato un ostacolo Io vi consiglio, vi chiedo, anche come semplicemente per dare un'occhiata di passare sul nuovo canale E a questo punto da GPJ è tutto, al prossimo video e ci vediamo sul nuovo canale